Nel 1981, all'età di 20 anni, debutta al Festival di Castrocaro col brano Un'altra atmosfera scritto da Zucchero classificandosi. Al secondo posto dietro Zucchero e Marina Fiordaliso arrivate a pari merito in prima posizione. Partecipa al Festival di Sanremo 1982 con Lisa. Brano scritto e prodotto da Delmo Fornaciari. L'artista pur non vincendo viene decretato come rivelazione del Festival da TV Sorrisi e Canzoni e, nell'aprile del 1982 sull'onda del consenso ottenuto grazie al Festival di Sanremo, viene invitato a partecipare al Festival internazionale di Malta come rappresentante dell'Italia, ottenendo alla fine il secondo posto. Nell'estate del 1982 presenta il suo secondo 45 giri quando lei ritornerà, sempre scritto da Zucchero, alla «vela d'oro» di Riva del Garda. Nell'ottobre del 1982 Stefano inizia a condurre l'orecchiocchio su Rai 3, rotocalco televisivo musicale pomeridiano-antesignano di videomusica alternando quindi l'attività di interprete a quella di presentatore e di intrattenitore. Stefano viene nuovamente chiamato a partecipare al Festival di Sanremo nel 1983. Stavolta nella sezione Big col brano Complimenti scritto da Donatella Milani. Il brano si classificherà al settimo posto della classifica generale. Quarto tra i Big, eppur non bissando il successo di Lisa riesce ugualmente a permanere in classifica per più di, dieci mesi ottenendo un buon riscontro di vendite. Nel maggio del 1984 vede la luce il nuovo singolo «Notte a Marena» scritto da Alberto Salerno e Renato. Brioschi. Uscirà quindi il 45 giri che presenta sul retro il brano «Strano sentimento» sempre su etichetta. Fonit eccetera. «Notte a Marena» viene eseguita dal vivo per la prima volta al Teatro Verdi di Montecatini in uno. Spettacolo condotto da Pippo Baudo nel giugno del 1984. A fine giugno Stefano partecipa quindi al concorso Festival di St. Vincent con Notte a Marena. Sarà il primo pezzo ad aprire la manifestazione. Classificandosi al quarto posto tenendo consensi unanimi sia di pubblico che di critica. Nel frattempo la carriera artistica di Stefano prosegue anche nel campo teatrale. Nel 1995 reciterà con la Compagnia Fiorentina del Nuovo Bargello nella Mandragola di Machiavelli. Nel ruolo di Callimaco. Nell'aprile del 2007. Dopo ben 24 anni, Stefano ritorna a calcare il palco dell'Ariston a Sanremo per reinterpretare l'ISA ai migliori. Anni di Carlo Conti. Nel 2009. Ospite alla trasmissione Festa Italiana ha dichiarato di avere vissuto un periodo di depressione. Durato anni. Nel 2013 dopo ben 27 anni. Delicatamente due vide la luce nel 1986. Di distanza Stefano ritorna con un nuovo album di inediti dal titolo Lo zucchero e il sale.